11 cori con oltre 335 cantanti provenienti da tutta Italia si sfideranno a colpi di note in città. Arezzo è infatti pronta a diventare la capitale della musica polifonica. I prossimi 8, 9 e 10 novembre si rinnova l'appuntamento con il concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo. La manifestazione che giunta alla sua 36esima edizione vede gareggiare formazioni corali provenienti da tutto il paese. La tre giorni si aprirà l'insegna della formazione con le masterclass della scuola per direttori di coro di Arezzo che culmineranno nella serata di sabato 9 novembre con un concerto finale nella chiesa di San Michele. Domenica 10 novembre invece si entrerà nel vivo con la giornata del 36esimo concorso polifonico nazionale. I cori arrivati da tutta Italia si contenderanno dunque la vittoria e la missione diretta al concorso polifonico internazionale, l'appuntamento è per le 10 nella chiesa di San Michele dove i cori partecipanti si esibiranno divisi in quattro categorie. Il gran finale è invece in programma al Teatro Petrarca dove alle 15 si terrà il concerto finale dei cori partecipanti e si riunirà la giuria per decretare i vincitori e dar luogo alla premiazione.